Ciao a tutti, bentornati su Broken Stories di Flavio Troisi, scrittore e ghostwriter, e lettore naturalmente. Dopo un video su Clive Barker che avete visto e commentato davvero in tanti, un video diciamo critico di analisi dell'opera da un punto di vista si spera originale, interessante, voglio oggi proporvi una piccola conversazione, o forse dovrei dire un monologo più correttamente, su un autore che invece non conoscete molto probabilmente e che vi sarà anche difficile leggere in italiano, perché di suo purtroppo c'è ben poco, quindi questo video sicuramente avrà scarsissimo successo, ma io comunque ho il piacere di proporvelo, perché insomma si può andare anche oltre gli autori noti, quelli che consideriamo classici, quelli di cui siamo fan. Allora, questo è un autore di cui secondo me dobbiamo interessarci. In realtà dovremmo anche fare in modo che gli editori italiani pubblichino materiale suo in misura decisamente maggiore. Di chi sto parlando? Sto parlando di Nathan Balingrood. Balingrood? Nathan Balingrood. Scritto così. Eccolo qui. Questa qui, vedete? Nero visibile. E' un suo racconto lungo, una sua novella di 70 pagine circa, che è uscita negli Stati Uniti per una piccola casa editrice chiamata This is Horror e in Italia per edizioni Hypnos nel 2017. Questa, amici miei, è l'ultima copia disponibile cartacea di questa opera, però potete procurarvela anche online direttamente dall'editore o su portali vari in formato elettronico. Nathan Balingrood, signore e signori, perché voglio parlarvi di quest'autore, che è nato nel 1970, che è americano, come tanti altri, si è avvicinato al fantastico più perturbante sulle pagine dei libri di Stephen King e che poi ha cercato una propria strada. La cosa che mi ha incuriosito di quest'autore è che dopo aver pubblicato i suoi primi racconti di taglio, diciamo, classico, un po' kingiano, e quindi aver interpreso la strada della professionalità, comunque della semiprofessionalità, cosa ha fatto lui? Si è ritirato, ha detto no, così non va, non posso scrivere questo, devo trovare una mia strada, devo trovare un mio modo. E quindi è scomparso di Radar per un po', diciamo che ha studiato, ha cercato la propria vena autoriale. E cacchio l'ha trovata. Il primo racconto che ho letto da poco di Balengrood è contenuto in questo numero di Hypnos, la rivista edita da Hypnos, editore, e si intitola, si intitola I mostri del cielo. Eccola qui. Dopo averla letta ho dovuto subito procurarmi l'altra pubblicazione disponibile, che è questo, il nero visibile. Perché è interessante parlare di Balengrood? Intanto perché scrive storie che ti fanno veramente affondare a testa in giù in un'angoscia indefinibile. Leggendolo io, come non mi accadeva da molto tempo, mi sono sentito trasportare in una, diciamo, zona climatica emozionale che non conoscevo. Umida, buia, oscura, o tenebrante. E sicuramente ho avuto il cuore stretto in una morsa dalla prima pagina all'ultima mentre leggevo il racconto Mostri del cielo. Mi è successa la stessa cosa, in misura leggermente minore, con il nero visibile. Ma comunque ho riscontrato una continuità tematica e stilistica che mi fa pensare che Nathan Balengrood sia comunque veramente un grande autore e che è veramente un peccato che non sia ancora tradotto adeguatamente in Italia. Le sue opere devono arrivare fino a noi, a cominciare dalla sua raccolta di racconti, che se non sbaglio si chiama American Lake Monsters, North American Lake Monsters. Questo autore riesce a raccontare il perturbante, l'inquietante, ma anche l'orrorifico, con un taglio completamente personale. E noi abbiamo bisogno di questo. Non possiamo sempre accontentarci del solito modo, dell'unico modo, o di quello imperante per raccontare storie del brivido, dell'incubo. Le storie di Balengrood che ho letto sono veramente dell'incubo. Ma lui cosa fa? La cosa veramente che mi ha colpito. Cosa fa lui? Lui non usa il fantastico come cardine della storia. Cioè lui non racconta delle storie in cui il fantastico sono l'elemento chiave di maggior interesse. Lui usa il fantastico in una maniera abilissima, all'interno però di storie in cui l'elemento chiave sono le emozioni, le vicende estremamente modeste, umane, dei protagonisti. Cioè lui fa una narrativa squisitamente mainstream, che poi vede l'incunearsi del fantastico in maniera davvero organica all'interno di queste storie per suscitare e, come dire, far spiccare delle emozioni che in realtà sono il vero tema del racconto. Questo io lo trovo, dal momento che gli riesce così bene, straordinario. Perché le due storie che ho letto, quindi, ripeto, Mostri dal cielo e Nero visibile, sono storie di relazioni di coppia, messe duramente alla prova. Ed è scritte, e con tale sapienza, e con un realismo così accurato nel dosaggio delle sfumature, a livello di dialoghi, come anche di descrizione di emozioni, che tu ti senti veramente parte in causa. Soprattutto se, come dire, come tutti, fondamentalmente, hai avuto dei trascorsi emotivi anche un po' drammatici. E con drammatici intendo laceranti storie d'amore, separazioni, delusioni. Allora, questo autore, Wallingard, ci racconta queste relazioni tra persone assolutamente credibili, quasi come se fossimo alle prese con un romance, con una storia che in realtà, appunto, ci racconta di una coppia, di come attraversi un momento di crisi, di come le relazioni possono essere disfunzionali, di rompenti corrosive, come volete voi. Di come in profondità il pugnale dell'incomunicabilità possa arrivare a ferirci. E poi, all'interno di questo, raccontato con la sapienza di un carver, ecco, all'interno di queste dinamiche lui inserisce degli elementi che fanno davvero molta paura. Mostri dal cielo, racconta, niente spoiler, ma vi accenno un po' la trama, racconta di un uomo che attraversa il periodo più buio della sua vita. Perché? Perché ha perso il suo figlio, un bambino, piccolo, indifeso. Ma non l'ha perso nel senso che è morto, l'ha proprio perso. L'ha perso, si è addormentato al parco e quando ha riaverto gli occhi lui, il bambino, non c'era più. Immaginate che effetto può avere un evento del genere su un rapporto di coppia. Bene? Quindi è proprio questa angoscia che lui riesce a trasmetterti, di come la coppia si disgreghi davvero in una maniera terrificante. E poi all'interno di questa storia introduce, prima diciamo col contagocce, delle strane creature che compaiono nel mondo e che tutti chiamano angeli. Quindi ci sono degli angeli in tutto questo. Non vi dico come poi proceda alla vicenda perché è tutta da scoprire. Davvero straordinaria. Credo che questo numero di Hypnos sia facile ancora dalle perire, si possa ordinare. Per leggere questo racconto che bisogna assolutamente prendere in esame. Purtroppo l'editore mi ha anche detto che i suoi lettori abituali forse non hanno apprezzato così tanto. Cioè non i suoi lettori abituali, i lettori di Weird tradizionale. Non hanno, non sono rimasti, non si sono innamorati di questa storia. Il che secondo me è totalmente folle perché è evidente che Balinger è uno scrittore di un altro livello. Già solo il linguaggio, come usa le parole, come le annoda fra di loro. Già solo questo ti fa male mentre leggi. Male è bene, naturalmente. Per cui, essendo l'editore una persona di gusto, ha poi pubblicato anche questo, questa novella. Ripeto, pubblicata da un editore americano che si chiama This Is Horror, quindi se amate l'horror, signori, leggetela. La vicenda qual è? La vicenda è questa. Anche qui abbiamo, al centro della storia, dinamiche di coppia. Ma tutto questo fa parte della storia della letteratura, in realtà, e quindi se viene raccontato bene, ben venga, e qui di nuovo Balingrod lo racconta benissimo. Il protagonista di Il Nero Visibile, Visible Felt, che poi sarebbe il Sudicio Visibile, il Sudicio Um è visibile. Ecco. È un barista. Questo barista ha una relazione di coppia, con una ragazza molto più erudita, istruita di lui, e lui prova anche un po' un senso di inferiorità nei suoi confronti. Quindi, cosa fa questo ragazzo? Scarica, se vogliamo, anche un po' la sua insoddisfazione esistenziale sulla illusione di un amore con una ragazza che frequenta il suo bar, si illude di poter avere una grande storia con lei, e quindi comunque la corteggia, mentre lei è anche già affidanzata. Benissimo, questa diciamo che è la base, l'impianto generale, sul quale interviene un evento, una rissa nel bar, molto sanguinosa, molto violenta, e alla fine della rissa qualcuno ha dimenticato, ha perso il cellulare, il suo cellulare, il suo smartphone nel locale. Eric, il protagonista, se ne impadronisce distrattamente e torna a casa, per poi ricevere dei messaggi su questo cellulare che non è il suo. E questi messaggi sono via via in realtà fin dalla prima serata davvero inquietanti, e poi diventano peggio che inquietanti, e poi diventano peggio che peggio che inquietanti. In tutto questo, di nuovo, Balingut ci racconta il rapporto di coppia in un modo autoptico, ecco, con un approccio autoptico, ci fa vedere da vicino la malattia del rapporto di coppia che non funziona. E quanto questo possa essere inquietante di per sé, mentre il suo protagonista si dibatte fra fantasie romantiche e inquietante, questa strana attrazione, per questo flusso di follia che sempre di più rompe dalle immagini che riceve su questo cellulare. C'è qualcuno che opera al di là della realtà così come la conosciamo, esattamente come anche nell'altro racconto che vi ho appena descritto. Questo racconto anche questo diventa gradualmente sempre più coinvolgente, inquietante, perché Balingut veramente padroneggia l'atmosfera, la composizione, l'atmosfera e il linguaggio che è davvero originale, molto originale. Il modo in cui, ripeto, le parole si avvinghiano l'una all'altra in combinazioni impreviste spingono, mi hanno spinto perlomeno, a una lettura sempre concentrata, attenta, anche per apprezzare le rifrazioni, per apprezzare gli improvvisi scantonamenti semantici davvero incredibili. Quindi stiamo parlando di una prosa che ci richiede, ci richiede una certa partecipazione, anche se volete a livello intellettuale, che male non fa, no? Non fa male. Ecco, io penso che qui, con lui, con Balingut, siamo di fronte a un protagonista, potenziale protagonista, di un weird, di un horror che davvero cerca nuove strade. Non voglio dire che si riscatti dagli autori precedenti, però mi ha incuriosito il fatto che anche nella sua biografia, nella biografia di Balingut, ci sia stato questo ripensamento, questo capire che stava lavorando in una maniera forse perfettibile, e quindi di essersi fermato e avere concentrato la sua attenzione sullo sviluppo di un altro approccio, di un altro modo di fare weird e horror. Ora, un autore del genere, davvero capace di prenderti il cuore e infilarci le unghie mentre tu leggi le sue storie, non può, non può rimanere inedito in Italia. Quindi io invoco voi tutti che seguite questo canale e che temo che sarete quattro gatti a guardare questo video su un autore sconosciuto. Comunque vi invoco a far presente a Hypnos Edizioni, nella persona di Andrea Vaccaro, che noi vogliamo leggere di più di Balingut. Devo dire che ho preferito la traduzione di Mostri dal cielo a quella di Il Nerovisibile e anche, diciamo, qui ho trovato qualche piccola svista a livello proprio solo di virgole qua e là nei dialoghi. Poca cosa. Però, però, per un autore così di altissimo livello ci vuole la più alta attenzione, secondo me. Complimentissimi a Hypnos per avere per primo in Italia portato la sua attenzione su questo genio. Genio? Non lo so, comunque è mostro. Non so se sia un genio o meno un mostro. Cioè, se noi qui non leggiamo anche autori così nuovi, così innovativi, che scrivono in maniera così diversa. Dal solito, secondo me, non andiamo avanti. Insomma, rimaniamo un po' ai margini dell'impero. Ok? E l'impero è fatto anche di questi incredibili, di questi incredibili ex ploua letterari. Quindi vi parlerò, spero prestissimo, in futuro, insomma, anche di questi autori che non sono famosi, che non sono Clive Barker, che piace a tutti noi, come ho potuto evincere dal video e dal risultato del video, dell'ultimo video che vi ho proposto. Ma vi voglio parlare anche di questi straordinari interpreti della narrativa dark odierna. Ok? Lo farò. Poi, se a voi questa cosa piace o non piace, fatemelo sapere. Però almeno ci incuriosiamo a vicenda, che ne dite. Ecco, Ballingrod ci impone di guardare le emozioni dei suoi protagonisti con questa ottica davvero da entomologi, o da etologi. Ci chiede di studiare il comportamento umano e, per farlo, ci propone storie che spaventano. Per me questa è una grandissima cosa. Quindi, di nuovo, procuratevi questa novella, leggetela. La potete trovare in ebook. Costa poco? Pochissimo. Pochissima, tipo, non so, 2-3 euro. Ok? Sono 70 pagine. Spaventatevi. Osservate come lavora Ballingrod. E poi facciamo presente all'editore Hypnos, o, se lui non lo vuole, a qualcun altro che a noi farebbe molto piacere leggere altre cose di questo autore straordinario. Andiamo avanti. Ciao. Iscrivetevi al canale. Ciao, ciao, ciao.